Quindi, questa volta invece, siccome il quadro è diverso, non è più come una volta, tutti zitti dietro in silenzio a eseguire gli ordini, ma si è ristabilita la democrazia in perdita, giustamente la minoranza fa notare un problema. Ma cosa succede? L'ufficio cosa ha fatto questa volta? L'ufficio, non l'assessore. Ha fatto quello che ha sempre fatto gli anni precedenti, basta, semplicemente questa volta qualcuno ha fatto notare che c'era una problematica di due giorni, però siccome vogliamo andare a vedere anche i cavigli, le virgoli, i puntini, in una città dove agnesi chiude, spazzatura non funziona, il porto è fallito, il lavoro non ce n'è, l'economia è in crisi e l'opposizione non ha altro da fare che andare a guardare i porti. I punti e le virgole che continuasse pure a guardare i punti e le virgole. Si è aperta la finestra per riapprovare il bilancio consultivo, che poi il bilancio consultivo è reso conto del bilancio del commissario, quindi noi non abbiamo approvato un bel fico secco di niente, non abbiamo approvato, non abbiamo fatto nessuna scelta politica, non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto una pura e semplice pratica burocratica.